Nelle tentazioni Gesù mai dialoga col diavolo, mai. Nella sua vita Gesù mai ha fatto un dialogo col diavolo, mai. O lo scaccia via, o degli indemoniati, o lo condanna, o fa vedere la sua malizia, ma mai un dialogo. E nel deserto sembra che c'è un dialogo, perché il diavolo le fa tre proposte. E Gesù risponde, ma Gesù non risponde con le sue parole, mai. Risponde con la parola di Dio, con tre passo della scrittura. E questo per tutti noi. Quando si avvicina il sedutore, incomincia a sedurci noi. Ma pensa a questo, fa a quello. La tentazione è dialogare con lui, come ha fatto Eva. Eva ha detto, ma non si può, perché noi... E è entrato in dialogo. E se noi entriamo in dialogo col dialogo, saremmo sconfitti. Mettete questo nella testa e nel cuore. Col dialogo, col diavolo mai si dialoga. Mai si dialoga. Non c'è dialogo possibile. Soltanto la parola di Dio. Grazie a tutti.